Presidente Pizzola, che si interviene nella Facoltà. Grazie, Presidente. Ringrazio la Consigliera Strada per aver sottolineato con questa mozione la necessità che ci sia una risposta immediata e la più possibile trasparente a quello che, e mi associo all'Assessore Gallera, è uno straordinario senso di responsabilità, di generosità e di partecipazione alla crisi pandemica che i Lombardi hanno dimostrato, con una mobilitazione a favore del sistema sanitario, degli ospedali in particolare del sistema sanitario, che ha stupito tutti noi, perché non pensavamo davvero, soprattutto nelle prime settimane di questa crisi, di vedere una reazione da parte dei Lombardi di questo tipo. E allora credo che una mozione come questa rappresenti un impegno, seppure declinato secondo l'invito, per tutti noi, istituzione, una volta tanto uso il noi con l'istituzione, di essere davvero capaci di corrispondere a questa generosità con interventi rapidi, efficaci e con la massima trasparenza nel rendicontare come questi interventi vengono fatti. Credo che questa sia una necessità anche per dimostrare ai cittadini che possono, per quanto è possibile, ancora fidarsi delle istituzioni, perché altrimenti il rischio che noi corriamo in questa crisi, e anche nella coda di questa crisi, è di avere dei cittadini che hanno creduto nelle istituzioni e non vedono arrivare dalle stesse una risposta all'altezza della loro generosità. Non mi dilungo oltre, se non per dire che in questa fase noi dobbiamo utilizzare tutte e sottolineo tutte le risorse a nostra disposizione per dare delle risposte chiare e percepibili sul territorio, perché i cittadini chiedono esattamente questo. E mi spingo anche a dire che questa nostra regione dovrà essere in grado nel prossimo futuro di utilizzare al meglio e di richiedere tutte le risorse disponibili per far sì che il nostro sistema sanitario, a livello strutturale, soprattutto per la sua parte pubblica, si dimostri all'altezza della sfida che ha di fronte e che è quella di tornare ad essere un riferimento per l'intera comunità nazionale. Per questo, anche l'invito che è stato fatto a livello nazionale di utilizzare tutte le possibilità che ci vengono offerte anche nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal MES, credo che debbano vedere la nostra regione impegnata in prima linea a porre in campo tutti i progetti necessari perché le risorse vengano spese al meglio. Quindi dico che il nostro voto è favorevole a questa mozione perché crediamo che sia un necessario impegno ufficiale nei confronti dei cittadini e nel contempo dico che dobbiamo metterci nella disponibilità a scatenare e a mettere a terra tutti i progetti possibili perché le risorse che ci verranno messe a disposizione siano usate nel migliore dei modi possibili. E mi auguro che questo possa avvenire seguendo anche a quanto diceva l'assessore Gallera nella sua risposta alla question time di questa mattina anche per quanto riguarda l'ospedale in fiera che al momento non è certo un esempio di trasparenza e di accountability nei confronti di coloro che hanno dimostrato con la loro generosità di voler sostenere un progetto ambizioso che per adesso è ambizioso solo sulla carta e non nei fatti e nella realtà. Grazie. Grazie Presidente Pizzul. Io non ho altre richieste di intervento.